Che stile questi mobili e complementi in acciaio cromato? L'acciaio cromato, utilizzato nel design sin dagli anni 50, riflette e amplifica la luce, ideale per combinazioni con vetro e legno. Il tavolo marcuso di Zanotta unisce sapientemente l'acciaio cromato con il cristallo, simbolo del design industriale collaborativo. La libreria Original Tolomeo di Opinion Chatti, vincitrice del compasso d'oro, trasforma i libri in elementi di design moderni. La chaise A, prodotta da Tolix e realizzata da Xavier Pochard, è una sedia interamente realizzata in acciaio, caratterizzata da uno stile industriale davvero unico.